Ciao ragazzi, sono Gibri e bentornati sul canale. È passato pochissimo dall'ultimo video, infatti sarete scioccati, sì lo sono un po' anche io, anche se in realtà avendo un pochino più di tempo in questi giorni sentivo proprio la necessità e il piacere di condividere con voi alcuni story time che era da un po' che volevo portare, forse di alcuni ve ne avevo già parlato, comunque ve ne avevo già accennati, questo in particolare di cui parlerò oggi non lo so, ma si tratta della mia esperienza con gli scout. Fatemi sapere subito se anche voi avete fatto parte degli scout, se da piccoli, comunque in adolescenza o se ne fate ancora parte, perché so di alcune creature mitologiche che continuano a far parte degli scout anche in età adulta. Questa cosa mi suscita una serie di sensazioni e di punti interrogativi che però non escludono anche l'ammirazione, ma andiamo per gradi, andiamo per gradi perché questa è la storia di come mi sento di aver subito una vera e propria tortura o un vero e proprio sequestro. Allora, ovviamente io quando racconto le cose esagero, vado per estremi, non è che è tutto un dramma, ovviamente le cose nella vita drammatiche sono altre, però diciamo che purtroppo io non ho la fortuna di ricordare l'esperienza degli scout in modo positivo, o meglio, adesso col senno del poi mi rimane in tasca un bagaglio, un bagaglio di esperienze che tutt'al più posso tirar fuori all'evenienza. Però, anche qua, più di qualche aneddoto carino da raccontare, non è che me ne faccia poi tanto delle cose subite in quel contesto. Premessa, mio fratello ha fatto parte degli scout per tantissimi anni e si è sempre divertito. Anche mia sorella ne fa tuttora parte e comunque ci va volentieri. Questo è perché dipende da un sacco di fattori, soprattutto dai capi che si hanno, perché se si hanno dei capi in gamba, a quanto ne so, a quanto pare, le persone tendono ad andare più volentieri. Scout. Se invece, diciamo, chi dovrebbe trainare il gruppo non è in grado, non ha un buon carisma, una buona leadership e non sa coinvolgere i bambini e i ragazzi, è difficile che questi ultimi si sentano coinvolti. Altro dettaglio assolutamente importante per la buona riuscita dell'esperienza e del divertimento annesso è la chimica che c'è tra i membri delle squadriglie o delle sistiglie, perché è logico andare a scout non è andare al parco divertimento e a Luna Park, comunque devi fare delle cose, delle cose che richiedono fatica e a volte anche stress. E se queste prove le affronti con delle persone che ti stanno simpatiche, è logico che il tuo mood sarà diverso rispetto a che se le affronti con persone che ti stanno altamente sui cosiddetti. Ok. Quindi, insomma, è tutta un insieme di cose, un insieme di dettagli che vanno a incidere sulla qualità dell'esperienza. Premesso ciò, indovinate un po' io dove mi vado a collocare in tutto questo. Non credo di aver avuto dei capi, come posso dire, abbastanza carismatici da trasmettermi la voglia o almeno farmi capire il motivo per il quale fossi lì e al contempo, purtroppo per sfortuna, nella mia, non mi ricordo se squadrilla o sistiglia, comunque eravamo in reparto dai 12-16 anni, non c'era quella chimica di gruppo che serviva a rendere tutto più leggero. Eravamo sei ragazze, ma talmente diverse tra loro che non ci incastravamo per niente e nei momenti di stress o di assenza di sonno, cioè praticamente sempre, perché si dormiva tipo tre ore a notte ed eravamo sempre cotte, la tensione la si poteva tagliare con un grissino. Scusate ragazzi, ormai dopo Belfast ho preso i ritmi irlandesi, ossia che ci metto mezz'ora a bere il caffè e 30 secondi a bere una birra. Questi sono altri discorsi. Quindi niente, ero in terza media, per cui a cavallo tra i miei 13-14 anni, quando ho avuto l'immensa fortuna di far parte degli scout. Già. E non è che io adesso ho questo entusiasmo costumamente perché ho avuto una brutta esperienza. No, no, no. Era il mio mood anche allora. solamente che in famiglia ci tenevano che io facessi questa esperienza anche un po' per fortificarmi. Il che non è del tutto sbagliato perché alla fine possiamo dire tranquillamente che andare agli scout è un po' come andare ad una versione edulcorata di militare. Per cui se hai un po' di muffa addosso ti passa, ti va via. Impari un po' a svegliarti, a sbigiarti nelle cose. E questa è una cosa assolutamente sacrosanta. Cioè se non fosse stato per scout probabilmente non avrei mai provato il brivido di dormire da sola nella notte in una tenda o dovermi costruire una cucina partendo dal nulla, costruendo tavoli, sedie, ma anche il tollone, la grilla su cui far da mangiare, sopravvivere praticamente o comunque fare certi giochi corporei rotolandomi nel fango che di sicuro non era consuetudine tra quattordicenni al di fuori di quel contesto. Per cui non è che è tutto da buttare, assolutamente no. Partiamo infatti dallo spiegare che cosa si fa a scout perché molti non lo sanno. Ma gli scout, cosa fanno gli scout? Non l'ho capito bene neanche io sinceramente. Ho delle idee confuse al riguardo e pare anche che ogni gruppo di scout sia diverso. Noi facevamo diverse attività, alcune se posso permettermi molto fini a se stesse. Cioè io espresse volentieri avevo la sensazione di uscire di casa per andare a soffrire. Cioè per esempio se noi eravamo qui e bisognava arrivare qui non è che facevamo così, si faceva così, 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 così e poi si arrivava qua. Tutto perché bisognava stare male. Cioè c'era questa visione, io ero negli agesci, questa visione cristiana latente della sofferenza prima del godimento, diciamo, della rilassatezza. Rilassatezza che alla fine non avveniva quasi mai, nel senso non c'erano momenti di vero svago, libertà e relax. Se non mi viene in mente il bivacco davanti al fuoco la sera che si svolgeva dalle 11 della sera fino alle 2 del mattino più o meno. Era un bel momento perché ogni squadriglia, ogni assistiglia doveva preparare uno spettacolo e esibirsi davanti agli altri oppure raccontare delle storie. Ecco quello. Era un momento molto molto carino. Per il resto l'intera giornata era un susseguirsi di attività. Le attività potevano essere delle più disparate durante il giorno. Mi ricordo che a volte avevamo costruito delle strutture tipo di vedetta con tutti dei legni dove potevi arrampicarti, andare su o semplicemente alzare una bandiera o comunque delle strutture del legno polifunzionali che potevano essere utilizzate anche all'interno dei campi. Oppure a volte capitava che andassimo a vendere i calendari o le torte per raccimolare fondocassa. Oppure facevamo delle cacce al tesoro, cosa molto carina, o giochi corporei come cipolla dove praticamente tutto il gruppo deve stare unito, aggrappato l'un l'altro e c'è uno che sdradica i membri di questa cipolla uno a uno finché ne rimangono due e gli ultimi due che riescono rimanere attaccati in teoria vincono. Tutti dei giochi così molto molto terra terra. Durante i campi mi ricordo le gare di cucina dove i capi passavano di tenda in tenda a vedere come avevamo organizzato sia la tenda sia la cucina perché appunto noi andavamo poi nella foresta a prendere i legni, costruivamo il tavolo, le sedie, avevamo questo tollone con una griglia e accendevamo il fuoco. Ovviamente era proibito usare la diavolina anche se si spacciava tra le tende e ci veniva dato un punteggio sia per il cibo che cucinavamo sia per l'ordine della tenda. Quindi c'era anche questo concetto di cura delle proprie cose. Mi ricordo che nella nostra sede ognuno aveva un posto, ogni squadrilla aveva un posto e abbiamo dovuto fare il murales per cui c'era talvolta anche questa componente artistica che comunque dava un punteggio alla squadra. Le squadriglie erano suddivise in maschi e femmine però le attività venivano fatte insieme. Spesso ci capitava di pernottare anche senza capi di notte in sede e io ricordo veramente cose molto molto pericolose e tipo fiammate create con accendini di odorante e insomma un sacco di stupidate tipiche dei ragazzini a 14 anni. Però oltre il fatto che a me non divertiva molto l'environment che c'era lì, io avevo già la mia vita, io avevo già la scuola, il fatto che dovessi studiare, le mie amiche di scuola con cui avevo piacere a uscire durante il weekend e spesso non potevo perché ero impegnata con queste persone a scout, persone di cui purtroppo a me fregava men che niente perché non avevano le mie stesse vibes, non le riconoscevo come mie vere amiche per cui per me quel tempo era assolutamente tempo perso. Oltre il fatto che non mi piaceva proprio, non mi piaceva uscire di casa mezza nuda con le gambe fuori d'inverno perché avevo freddo, non mi piaceva dormire sul pavimento d'inverno perché nonostante il sacco pelo avevo freddo, non mi piaceva morire di fame perché la maggior parte del tempo si moriva di fame, questa è la verità, non mi piacevano un sacco di scomodità a cui mi sentivo forzatamente sottoposta, scomodità che certo wow in caso di guerra saremmo obbligati a sopportare ma vedevo completamente inutile il fatto di sottopormi a questa tortura così a gratis. La goccia che però ha fatto traboccare il vaso è stato al San Giorgio in cui eravamo tutti gli scout della Lombardia e Lomellina se non sbaglio, comunque diciamo della bassa padana e anche verso il Piemonte. Eravamo 400 scout con un bagno che dopo due ore era completamente intesato per cui la si faceva dietro gli alberi, dietro gli alberi nel campo dove dormivamo e mangiavamo oltre il fatto che ha diluviato per tre giorni per cui io vi lascio immaginare le condizioni. Di tutto ciò io ricordo che però è stato abbastanza soddisfacente, edificante e proverei a dire anche divertente il costruire la tenda. Cosa ancora più divertente però è che il giorno dopo mi sentivo un pochino la faccia umida. Mi sveglio e tipo sacra sindone ho tutto il della tenda spiaccicato sul corpo mentre diluviava, pioveva dirotto, per cui la tenda era venuta giù. E noi alle sei e mezza del mattino con questo diluvio universale abbiamo dovuto rimetterci a rifare tutta la tenda. Facciamo la fila per la colazione una volta finita sta cosa che io ragazzi adesso la mattina non mi si può neanche fare una domanda che non so neppure rispondere come mi chiamo, figurarsi, capire quale palo, quale picchetto va dove, non so come abbiamo fatto. Comunque ci mettiamo in fila per la colazione, anche lì ragazzi a scout l'igiene è assolutamente quello che è. Vi dico solamente una cosa, i ragazzi stavano bevendo il latte in unica ciotola per cani e ci pucciavano tutti tipo la brioche, non la brioche, tipo un pezzo di quei muffin da supermercato dentro e mangiavano e pucciavano così. Una roba che per me era capricciante, mi fa troppo schifo. Niente, noi ragazzi ci mettiamo in fila e ci viene consegnato un po' di tè in un bicchiere, un po' di tè caldo. Ecco il mio aveva una cicca spiaccicata sul bordo con un capello. Il mood è questo ragazzi, cioè a me spiace dirlo, ma that's it, that's it. Io non voglio pagare le colpe di essere nata in occidente nel 91. Me la voglio godere questa cosa, non voglio soffrire a gratis, ma a caso tra l'altro per una causa fine a se stessa. Cioè un conto mi molassi per andare in qualche paese in via di sviluppo ad aiutare ci sta che mi adatto, ci sta che soffro perché sto facendo del bene a qualcuno. Ma lì io avevo proprio la sensazione di soffrire senza un motivo, se non quello formativo che però dal mio punto di vista autoeliminava la causa stessa, perché io so già che sono molto versatile, cioè mi adatto molto alle situazioni. Mi è capitato di dormire in macchina, non avere la colazione il giorno dopo o dormire in posti improponibili, so di saperlo fare, ma l'ho fatto sempre per un motivo alla base, non per il fatto semplice di volermi autofar del male. E lì avevo proprio questa sensazione del perché sono qui a soffrire così, perché. Comunque fatta questa colazione che non ho neanche fatto perché mi veniva da vomitare, la giornata iniziava. Ovviamente sono state tre giornate assurde perché poi negli scout c'era molto nonnismo, adesso non so se è ancora così. Io so di bambini maschi all'epoca saccagnati di botte da quelli più grandi, ma a livelli veramente preoccupanti. Noi ragazze non arrivavamo a metterci le mani addosso, però c'era molto tu fai quello e stai zitta. Il mio problema è che non stavo molto zitta, nel senso che va bene, io faccio questa cosa due volte, la terza la fai tu. E invece tentavano sempre di rimettermi a posto. E già questa cosa mi è stata sul cazzo, perché non è che se una cosa è sempre stata fatta così vuol dire che è giusta. Comunque si potrebbe spendere un'ora a parlare solamente di questo. Avrò fatto una cosa come dodici volte avanti e indietro a lavare pentole e gavette, tra l'altro in questo unico lavello dove c'erano tutti dei piatti e delle posate galleggianti nello sporco e gli scarafaggi che camminavano attorno al rubinetto. La tenda dopo qualche ora, dopo comunque già solo una gara di cucina, puzzava di fuligine, tanto è vero che non potevo neanche più usare il mio spazzolino da denti, perché anche lui sapeva di bruciato. Non ci si poteva assolutamente lavare, ecco questa è un'altra cosa che mi mandava al manicomio. A meno che non fosse un campo estivo dove ti lavavi tipo il bestiame con la canna dell'acqua sotto le fronde degli alberi nel bosco davanti a tutti, o se era un campo dove non si sudava particolarmente, non era assolutamente necessario lavarsi. Per cui noi abbiamo fatto tre giorni puzzolenti di fuligine, sporchi dai giochi fatti nel fango, senza poterci lavare, perché vi ricordo che non c'era neanche un bagno. Io mi ricordo solo i miei capelli completamente unti, spiaccicati lungo il volto, una sensazione di disagio cosmica, poi direte vabbè tre giorni senza lavarsi che capirai che dramma. Certo ragazzi tre giorni senza lavarsi se stai in casa sul letto così li puoi anche sopportare, ma in caccia al tesoro fatti all'aperto, in giochi corporei veramente fatti rotolandosi nel fango, ma non lo dico così per estremizzare, perché c'era proprio un gioco in cui dovevamo strisciare per terra, nella melma, e vi ricordo che continuava a piovere, per cui le condizioni erano estreme. Eravamo da buttare nell'umido, poi eravamo comunque in sé in una tenda, cioè ricordiamoci anche questo dettaglio, che il nostro sporco, il nostro disagio era moltiplicato per sei, oltre la puzza ormai insopportabile di fuligine e di bruciato, che dopo un giorno era veramente invasiva. L'unica cosa che potevamo fare era andare a questo rubinetto del bagno, che almeno diciamo l'acqua del rubinetto andava, e darci così una sciacquata veloce, ma eravamo completamente tipo sporche, proprio nere di fuligine, questi capelli assolutamente schifosi ragazzi, schifosi. Sì, ci eravamo portate dietro qualche salvietta umidificata per sciacquarci, per darci una rinfrescata, ma il disagio era tanto. Oltre il fatto che, ricordiamo anche questa cosa, i giochi erano corporei, quindi era un continuo dover saltare addosso all'altro, un farsi prendere in braccio, un buttare per terra, un placcare. Io mi sentivo a disagio ad avvicinarmi alle persone, infatti avevo questa giacca pesantissima che non volevo più togliermi perché mi sentivo male, cioè mi sentivo proprio a disagio mostrarmi così alle persone. Ovviamente poi di notte si dormiva pochissimo perché i bivacchi duravano fino a notte fonda e la mattina ci si alzava presto, una mattina perché c'era crollata la tenda, ma anche i giorni seguenti, alle sei e mezzo, alle sette ci si svegliava e iniziavano le attività, per cui era tutto molto provante, la stanchezza si faceva sentire e anche il nervoso tra di noi era crescente, c'erano veramente momenti in cui si sentivano le scintille nell'aria, finché non è successa la tragedia. È successo che durante una gara di cucina i giudici stavano guardando le tende dei vari scout, in particolar modo la nostra. Erano entrati nella nostra tenda, per cui erano lì a fianco, presenti, mentre è successa questa cosa, che poteva finire in tragedia. Praticamente a un certo punto la padella con l'olio va a fuoco e la mia capa squadriglia, che era una ragazzina di 15 anni, dice all'altra mia amica, che chiameremo Laura, Laura butta l'acqua sulla padella. Ragazzi, a un certo punto io ho visto Laura inghiottita da un vortice di fiamme. Ho pensato seriamente che fosse morta, perché era completamente avvolta, cioè alla Daenerys Targaryen proprio, è stata una roba allucinante. In realtà quando le fiamme sono sparite, diciamo, si era bruciata solamente le sopracciglia e la parte davanti dei capelli, ma poteva finire malissimo. Quindi niente, acqua fredda, eccetera eccetera, lei è scioccata ragazzi, lei è scioccata e niente, l'abbiamo soccorsa come abbiamo potuto e abbiamo vinto la medaglia del pronto soccorso. Però è stato uno dei momenti più brutti, che io non mi dimenticherò mai nella mia vita, cioè vedere davanti ai propri occhi una persona che va a fuoco è terribile. Già nei film mi sembra terribile, ma davanti agli occhi è veramente una roba bruttissima. Paradossalmente però quel momento ci ha riunito, ci ha riunito perché abbiamo avuto paura di perdere una di noi alla fine. Quindi c'è stato un momento diciamo di up a livello di chimica. Però ragazzi, la verità è che io non vedevo l'ora di andare a casa mia, non vedevo l'ora e quando finalmente sono tornata a casa io mi ricordo che mi ero portata un cuscino. Ho sbattuto il cuscino e sono usciti un sacco di scarafaggi. Immagino già le critiche, sei una principessa, sei abituata bene. Non sono una principessa, sono una persona intelligentemente pigra, nel senso che io non vado a soffrire laddove non ce n'è bisogno. sono molto flessibile, sono molto adattabile alle situazioni, molto, anche estreme, anche fisiche. Non ho bisogno di grandi cose, però il tutto deve avere un motivo alla base, perché se il motivo è solo soffrire, io non ci sto. Io me ne sto nei miei agi, nella mia stanza, comunque nel mio bellettino, al calduccio e questo è quanto. Ma fatemi sapere voi se avete fatto gli scout e se avete delle esperienze invece diverse da raccontarmi, magari più positive e possiamo parlarne nei commenti. Io vi ho detto la mia, non so, mi piacerebbe proprio confrontarmi con voi per capire se è solo una roba mia questa esperienza o scena o se avete patito la stessa cosa. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!